Combattiamo Rabito, capitano dell'Ottica Guerreschi, una partita tirata, combattuta fino in fondo, siete usciti sconfitti, ma ciò non toglie nulla il vostro percorso bellissimo che hai fatto in questo torneo. Sì, assolutamente, abbiamo fatto un bellissimo torneo, non ci aspettavamo questo risultato, peccato perché ce l'abbiamo lasciata fino all'ultimo, lottando fino alla fine, ma sta una partita lottata. Un percorso magari inaspettato, però io ho seguito le varie partite, siete stati... Sì, abbiamo fatto un ottimo torneo, la squadra giocava bene, non ho niente da dire, solo il contento del gruppo, peccato per la finale, ma va benissimo. E anche un po' di contentezza per essere tornati a giocare, c'è stato questo stop dovuto purtroppo alla pandemia, però ecco, tornare a giocare... Sì, tornare a toccare il pallone, fare attività comunque sportiva all'aperto, sta una liberazione, sta una liberazione e comunque da cosa nasce cosa, arrivava il torneo e tutto, molto contento.